Martano c'è un altro tema che è stato affrontato all'evento di consulenza, consulenza che tra l'altro farà un'altra tappa breve se non sbaglio Martano. Saremo il 13 di aprile sempre online, quindi anzi chi volesse si può iscrivere sul nostro sito che è consulentiacollat.it, quindi alla romana 2021.it, le iscrizioni sono aperte e sono aperte a tutti. La tappa di aprile, a cui poi seguirà anche una tappa di maggio, sarà dedicata ai giovani, i giovani da vari punti di vista. Ed era proprio questo il tema che volevo affrontare, il ricambio generazionale Martano. Sì, diciamo che la categoria dei consulenti, come d'altronde tante categorie lavorative in Italia, ha un tema di scarso ricambio generazionale, ci sono più persone in età avanzata che non giovani. Di sicuro non siamo una novità appunto nel panorama italiano, visto che l'invecchiamento demografico riguarda tutta l'Italia, tutto il paese, però è un tema che stride con quelle che sono le opportunità che questo settore offre in termini lavorativi, perché lo abbiamo visto nell'ultimo anno, ma oramai lo vediamo interrottamente da decenni, quindi almeno da vent'anni, le reti di consulenza finanziaria stanno svolgendo, hanno svolto un lavoro capillare nei confronti dei risparmiatori, tanto che abbiamo superato il quota 4 milioni che si affidano appunto ai consulenti finanziari e la fame di consulenza finanziaria in Italia c'è, perché se consideriamo soltanto le giacenze sui conti correnti che superano abbondantemente i 1.700 miliardi agli ultimi dati forniti dall'ABI, è un tema sicuramente, sì, nell'anno della pandemia di consumi ridotti per via della paura, piuttosto che per via del lockdown, ma non è giustificabile anche agli occhi di un investitore o di un risparmiatore il tenere depositati su conti correnti, quindi senza alcun tipo di ritorno, anzi quando e se dovesse ricominciare l'infiltrazione il ritorno sarebbe negativo, i risparmi degli italiani. Da questo punto di vista quindi il 13 di aprile cercheremo di affrontare il ruolo, come fare ovviamente rispetto alla nostra categoria a rimpolpare le fila dei consulenti finanziari con nuovi giovani, soprattutto e anche perché il consulente finanziario giovane interloquisce più facilmente anche con un imprenditore giovane. Il tema del ricambio generazionale e dei passaggi generazionali ha investito, ovviamente investe da sempre la piccola e media impresa italiana e quindi è un tema che vorremmo sviluppare, quello anche dei giovani come ponte tra la finanza e l'economia reale e ovviamente si tratta di individui che a differenza dei meno giovani sono anche più sensibili sui temi della sostenibilità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!